Ad Aversa aprirà uno sportello per ascoltare, sostenere e orientare le vittime di reati comuni. Ad Aversa nascerà uno sportello di ascolto e orientamento per le vittime dei reati comuni. Pasquale Piscitelli. Chi subisce un reato di tipo generalista, la parte offesa spesso non ha le capacità reattive e decisionali per potersi difendere. Quali strade scegliere, la paura, l'indecisione spesso fanno sì che la vittima non reagisca e quindi subisca. Per tali problemi nascerà ad Aversa uno sportello gratuito dedicato proprio all'ascolto e all'accompagnamento ai servizi presenti sul territorio. Il primo sportello di rete d'afne Italia che nasce in Campania. Lo sportello è solo il punto centrale di una rete, una rete interistituzionale, quindi varie istituzioni che devono in qualche modo intervenire rispetto ad una persona che è stata vittima di un reato qualunque. Il progetto nasce da un accordo a più mani, tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, dalla rete d'afne, dall'Associazione di Esis, Università sull'Orsolo e Benicasa, ovviamente il Tribunale e la Procura di Napoli Nord. Non dobbiamo dimenticare che l'ascolto per le parti offese significa l'inizio di un percorso di riconciliazione che consente alla vittima il reato di non sentirsi più vittima. Gli Avvocati dello Sportello non assumeranno la difesa dei cittadini, non si debbono verificare fenomeni di accaparramento di clientela, ma solamente orientamento del cittadino per la tutela del proprio diritto. L'università è importantissima a livello di formazione degli operatori, a livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e anche a livello di formazione degli studenti a questi temi. Si parte la settimana prossima quindi. I primi incontri nella nuova sede in piazza Duomo, sempre di Aversa. L'ascolto in una rete solidale.